Ok, aspettate, la mia voce adesso è pronta Allora ragazzi, io sono Epic e da oggi siamo soli perché Kypa è in vacanza E noi siamo già tornati dalla vacanza Comunque, questo era un pre-video, sì, un pre-video Dove volevo dirvi che questo è il vlog della vacanza Tutto il vlog con Kypa che abbiamo fatto in una settimana E niente, vi volevo dire solo questa cosa perché non avevo una intro E quindi, vabbè, vi lascio al video Buona visione Allora ragazzi, siamo tornati in questo nostro vlog della vacanza al mare Sono le 6 di mattina Già Sono le 6 di mattina, dovevamo essere noi due più due amici nostri che però non sono svegliati Io ho svegliato Epic, quindi in pratica ero l'unico che si era svegliato E stavo andando in spiaggia Alle 6 di mattina perché siamo swag Perché siamo swag Tu hai detto di farlo traballare questo coso Quindi non lo facciamo traballare The funny tag life Tipo col sole non si vedrà un cane Ecco Che piccane Aiuto Non sta mettendo a fuoco niente Cioè è chiuso Ma aperto Vabbè No Ok, ok, ok Silenzio Silenzio No, 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 no Guardi, guardi Guardi Noi non siamo mai entrati Via Ok Oh Che figo c'è un cane laggiù Zoom al cane Troppo bello Zoom quel cane Dove andiamo Ho zumbato il cane Ho zumbato il cane Io mi tengo in mano le cebate Ma i piedi nudi? Ma sì, andiamo a piedi nudi Vediamo le cebate Bordello Se non va Non c'è nessuno Dove andiamo verso No, verso giù Che figo Probabilmente Che cazzo è? Un ralletto Un ralletto Una ballenottera Una ballenottera spiaggata Che merda è? C'è una la morire Tanto Abbiamo tempo Fiuma dei occhi Bordello Bordello Cazzo è freddissimo Porca troia Il sole è appena sorto Ah, sono bastarddo Non vedete un cazzo Tutti i cento scoi Il mare è sempre mosso Infatti Ma il sole del primo giorno È stata una meraviglia Poi I giorni d'inferno Ah, ah, freddo 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 Noi abbiamo vloggato per niente Comunque questo è il terzo giorno Per l'esattezza Io non c'ho più la voce Non so perché Senti che merda di voce Che merda L'uomo spazzino Ciao uomo spazzino Ieri sera poi C'abbiamo più sbordia No ragazzi ieri sera No Ieri sera ho vloggato Ieri sera abbiamo fatto mezzanotte Abbiamo fatto mezzanotte con le biciclette Rubate al nostro camping E anche una che è da un signore Una da un signore ma tipo Non c'eravamo accorti che era da un signore Pensavamo che era del camping Quindi l'abbiamo preso Invece era una di quelle del camping Quelle private che tu ti compri tipo Da 2500 euro e poi la porti qua per andare in giro Noi abbiamo preso quella là Non quella che si noleggia 5 euro Ah si? Sì Io ho capito che era una di quelle che si noleggia No non era una di quelle che si noleggiata Ah si Allora abbiamo fatto due cose Prima un nostro amico ha preso una che non era del noleggio Però pensava fosse del noleggio Capito quale? Chi? Che si è rubato Quello alto e quello basso Quello basso che si è rubato la bicicletta Poi abbiamo preso un'altra bicicletta Che però era noleggiata da un altro Quindi abbiamo con i 5 euro pagati da quest'altro Abbiamo preso la sua bici 5 euro che sono mai Ma è curioso se senti con un piede qua Che fredda l'acqua 5 Oh no aspetta È fredda? No Cioè sì Oh però si sta No adesso mi si incolla tutto dai piedi Non mi si�� Sei un coglione Andiamo 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 Zona libera Libera Alga Alga Zona libera Tutte alghe speggiate Quattro Ma no Sto chiamato Ti so se è possibile Sto fan male Parcour Ahia Oh non provare a venire qua Brutta onda in fondo tanto per le 8 torniamo ragazzi se si muove un po' non è colpa mia è che visto che cammino sballo solo no vedete perché quando uno cammina fa sbduce adesso e sbduce a sinistra adesso questi cannecceranno via perché stiamo strillando ma a no non ce ne frega un cane perché i cani sono sono fregosi che cazzo sto dicendo madonna ma oggi c'è il raduno dei sassi ti sei vestito instant ti sei svegliato aspetta la porta rientro e hai già vestito se credo ma io dormo vestito capito? si mi sono mangiato a fare pure marmellata per chi vuole saperlo perché so che a voi fa piacere che noi facciamo colazione e cosa no non è vero un altro cane però questo è bianco aspetta lo zoom aspetta lo zoom facciamo dog watching da ora un po' il zoom tutti i cani non mi feca niente che bello hashtag dog watching nei commenti ok ecco guarda quanto suelga la nostromba ti sei tu 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 ah lo lo guarda che figo sto suelgando si veramente quanti iscritti abbiamo? abbiamo 95 iscritti credo che sono rimasti 95 non spero siano rimasti 95 cioè che sono saliti non che sono abbassati eeeh boh 5 iscritti oia porca oia 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 a mano di franza aspetta zoomiamo la boa oia ho zoomato la boa oddio oddio trama tutto ok vuoi fermare un po' tu? vai prego fermi che adesso sei evitato ti metti pure la pelusa nooo voglio nei commenti cos'è quella cosa voglio nei commenti cos'è è un pene di mare non lo conosci? no minchia allora allora non c'è nessuno eeeh lo sa ooooooo una ballegatta una spiaggiata corri una balenottera una balenottera una balenottera salviamo la balenottera tieni aio ma sembra di correre sull'asfalto tieni tieni no tieni no tieni una seconda devo salvare la balenottera ho salvato la balenottera la balenottera vabbè è rimasta la pace c'è un serpente marino c'è zenzero questo è zenzero ti serve i biscotti con lo zenzero? li vuoi? ecco manco ci hai campato c'è una mina di minchia ragazzi adesso con l'ombra non vedete un cazzo però io sono bastardo qui adesso c'è scritto the funny guys che questa dovrebbe essere una y e una s ma perchè hype questo qua si era scordato di mettere vabbè games si era scordato di mettere la s lì c'è iscriviti che non si capisce un cazzo e qua c'è epic and cup dai è troppo swag però se vedete i miei best inchietti quindi ecco epic and cup questa la metterò come sfondo del